allora sono curioso di provare questo prodotto io sono un informatico per cui diciamo che normalmente cavi di rete e connessioni queste sono abbastanza un affare quotidiano allora di solito anch'io mi porto sempre dietro tengo in auto per quando sono all'esterno e faccio attività all'esterno utilizzo un piccolo switch in modo tale che se avessi avrei bisogno di un cavo di rete e diciamo il posto dove sono non lo non ho mi stacco ne stacco uno e lo tocco lo switch e da lì poi mi collego con il mio portatile in questo caso è una questo è un piccolo switch un piccolo switch che nasce sostanzialmente per sdoppiare una connessione di rete non è uno splitter vero e proprio cioè non è che siamo semplici collegamento di fili e no è proprio uno switch per cui il traffico viene instradato qua abbiamo l'ingresso e qui abbiamo l'uscita viene alimentato attraverso in questo caso un cavo usb scelta comunque con connettore type c scelta interessante perché è normalmente una presa usb nel mondo dell'informatica quindi chi utilizza di solito non ha problemi ad avere condiviamo se riesco come dicevano ecco chi diciamo quanto per il tipo di utilizzo collegato ad un pc ad un notebook di solito una presa usb per alimentarlo c'è sempre vediamo in questo caso io mi collego adesso in questo caso attacchiamo un cavo di rete che è collegato ad uno switch in power over ethernet quindi in teoria in grado di lo switch non ha un'alimentazione tramite non è in grado di alimentarsi tramite power over ethernet chiede un collegamento ad un alimentatore usb effettivamente si accende adesso lo provo poi vi lascio le mie conclusioni qui non riesco purtroppo a farvi vedere il funzionamento però un secondo allora ho fatto una piccola prova devo dire che funziona a tutti gli effetti un piccolo switch comodo secondo me da tenere in valigetta sicuramente meno impegnativo rispetto anche ad uno switch cinque porte e con il grosso vantaggio di non richiedere di un'alimentazione esterna come normalmente avviene per cui in valigetta secondo me se siete tecnici informatici o comunque vi trovate spesso ad aver bisogno di un punto rete con cavo e non avete altro altro che il classico cavo collegato già magari ad un pc in questo caso lo potete fare uno split a livello di velocità è uno splitter da è uno switch scusatemi da un gigabit per cui tutto sommato non male non si sente molto la differenza certo il collegamento nel caso in cui vengano saturate le bande da entrambe le parti è sempre un gigabit per cui è un gigabit diviso in questo caso le due postazioni però normalmente in utilizzo classico di rete anche aziendale la banda non viene sempre saturata da ogni singolo pc anzi normalmente è il contrario per cui potrebbe essere una buona alternativa vi lascio comunque il link in descrizione il prodotto lo trovate su amazon è un prodotto adesso non ricordo il prezzo ma non è un prodotto particolarmente costoso forse sotto i 20 euro e niente vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto vi è stato utile e ad iscrivervi al canale per diciamo restare aggiornati sulle novità per voi è gratuito ma per per noi è sicuramente un bel segno e diciamo ci permette di andare avanti grazie e alla prossima